Puntare con determinazione e convinzione sulla musica classica napoletana come espressione e veicolo della cultura della nostra città e come attrattore turistico mondiale. E' quanto ha affermato l'assessore alla cultura del comune di Napoli Nino Daniele a margine della conferenza stampa di presentazione di incontri musicali alla casina pompeiana nella villa comunale di Napoli promossi dall'associazione note di Napoli e centro teatro studi. Si dice sempre che noi dobbiamo offrire ai turisti che vengono a Napoli appunto occasioni di incontrare la canzone classica napoletana quindi lo possiamo fare qui in questo posto che è un po' un tempio sacro della canzone classica napoletana con dei bravi artisti quindi io spero che appunto guidi, albergatori, band and break insomma tutti coloro che incontrano i nostri turisti possano offrire loro appunto questo programma che proviamo a fare del resto anche tutto l'anno in particolare nei momenti di presenza turistica più alta e quindi spero che abbia l'attenzione e la partecipazione che merita. Bisogna operare il più possibile affinché la canzone classica napoletana sia la vera protagonista dell'offerta culturale del comune e della nostra città così Gabriella Peluso e Anna Merolla dell'associazione Notte di Napoli. Notte di Napoli è un'associazione culturale da sempre in campo per sostenere la cultura, il turismo e soprattutto il grande patrimonio artistico della nostra città che è la canzone classica napoletana. Noi abbiamo degli artisti straordinari però non vengono valorizzati. Chi rimane a Napoli a lavorare spesso non trova fortuna. Questo è già un punto di partenza però sarebbe bello ripristinare il Festival di Napoli per noi giovani che facciamo parte della continuità della canzone napoletana ovviamente partendo dalla storia ad oggi.